Senti Fabio, riusciresti a far finta di essere innamorato di me per qualche ora? Io? Sì. Innamorato? Ma mica gli diciamo che andiamo a Rio. È uguale, non mi dà il permesso. Devo dire che questa vacanza dei ragazzi capita quasi ad hoc. Io mi sono fatto un programmino. Anche lei ad hoc? No, a Rio. Bernie e Patani. Bernie e Patani. Non è che la meravigliosa vacanza è una grande sola? Siamo Bernie e Patani, le volevo dire che probabilmente sia stato un errore. Oh, guarda che pallocava! Papà! Sorpresa! Guarda che è arrivato, papà! Dindo! Bernie! Matteo! Mi lovi a... Copacabana? Dov'è sta Copacabana? C'è un fritto? C'è nello di pistola. La cosa più importante è che non siete fidanzati. Io e lui fidanzati? Ma che dice? Mia moglie sta a San Pietroburgo. È qui in Brasile. In Brasile. Si è rifatta le ditte. Le ditte! E devo dire un'operazione riuscitissima, eh? Sode, piacevoli al patto. Ma come ho fatto a innamorarmi di te? Come ho fatto a non capire che sei una grandissima stolta? Stolta? A me piace, sono... Non so io perché gentilà a Buzzi-Cozza. Buzzi-Cozza? Buzzi-cona-Cozza. Ha fatto la crasi. Una crasi. Può essere scappata, non mi sono accorto. Strano perché di solito fanno le bolle. A me piace, non mi sono accorto. Strano perché di solito fanno la crasi. Grazie a tutti